Sto facendo il campus di Biennale Democrazia e che sta nel percorso che stiamo facendo di cercare di capire che cosa serve l'Italia e allora stiamo andando in giro a chiedere alle persone cosa serve l'Italia cioè che funzione vuol... cioè se è stato un video facendo se adesso ha senso l'Italia poi lo so chiesto ma per te c'è? ma io credo di sì però non so se sono più abituato a chiederlo cioè a crederlo oppure se è proprio veramente c'è un giorno a pensare che sì però... se provete un po' anche geograficamente è un'esperienza che ha senso poi in realtà però cioè vedendo tutta la mostra mi sembra soprattutto che le differenze rispetto al momento delle modificazioni non sono veramente... cioè non ci sono veramente abbiamate no? molto differenzibile ci sono ancora quindi forse... l'Italia è utile ma non lo so mai sapere di fare veramente gli italiani sempre coincide con tutti gli articoli che mi sento così ma porre... è proprio così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti